Musica Torna fruibile e rinnovata la storica biblioteca del Museo Internazionale delle Ceramiche a Faenza un investimento strutturale e archivistico di grande importanza per la comunità scientifica, di ricerca e artistica a livello nazionale e non solo. Siamo l'anno con questo evento importante che per noi è fondamentale perché la biblioteca è parte integrante del museo, è un centro di raccolta fondamentale per gli studi e le ricerche a livello internazionale dedicati alla ceramica. Sono oltre 70.000 i volumi raccolti e bisognava metterli in sicurezza. E questo è stato un progetto condiviso con l'amministrazione e la regione già da qualche anno e che è stato messo in campo dal 2017. Quindi due anni di intenso lavoro nei quali la biblioteca non è mai stata chiusa al pubblico. Abbiamo cercato sempre di dare un servizio ai nostri utenti che sono soprattutto provenienti dall'estero e ci mandano continuamente e quotidianamente richieste di ricerche, anche perché questa è una biblioteca che nasce subito negli anni 10 e quindi contestualmente al museo e quindi raccoglie veramente un patrimonio di grande valore e di grande rinomanza per gli studi ceramologici. Un intervento importante, peraltro finanziato nell'ambito della pianificazione regionale, è importante, lo sottolineo, perché è una biblioteca di grande spessore in un museo e sono pochi i musei che curano con questa attenzione le proprie biblioteche. Quindi è un intervento importante anche perché la documentazione è relativa all'oggetto principale del museo, quindi le ceramiche, ma non solo ed è un'operazione dal nostro punto di vista importante, è per questo che l'abbiamo finanziata naturalmente. È una gran festa perché è chiaro che era chiusa da tanto tempo, poi fra l'altro causa questo centramento di volumi e di riviste, perché abbiamo 65.000 volumi, era molto a rischio incendio e questo provocava la possibile chiusura del museo. Quindi le amministrazioni passate, quello che hanno fatto, hanno eretto dei muri e delle porte antincendio, lasciando questa zona come zona non fruibile e cercando di avere un operatore che portava i volumi di là. Adesso abbiamo finalmente fatto un impianto a gas antincendio, abbiamo messo a posto i locali e credo che questo sia un vantaggio per tutta la parte che usufruisce della biblioteca, che sono poi gli studiosi sulla ceramica e speriamo qualche ragazzo che fa la scuola di ceramica e comunque vuole approfondire l'argomento qui con noi. La biblioteca del museo nasce con la costituzione del museo nel 1908 e proprio da statuto era prevista la costituzione di una raccolta di pubblicazioni di carattere storico, artistico, di critica e di tecnologia ceramica a supporto degli studiosi e in compensazione e in accompagnamento dello spazio espositivo. Durante, nel dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, il nucleo della biblioteca si è andato a consolidare per la parte storica ma poi ad arricchire sempre di più, fino a giungere ad oggi con 70.000 volumi comprensivi anche di periodici e di cataloghi commerciali, soprattutto dell'industria ceramica e delle piastrelle. Quindi un nucleo molto importante e questi lavori che finalmente, dopo due anni di cantiere, vedono la fine hanno consentito di mettere in sicurezza questo ingentissimo patrimonio, mettere a norma le impiantistiche che è anche rinnovare gli ambienti, soprattutto gli ambienti dedicati agli uffici e questo nuovo impianto sia architettonico e anche dal punto di vista degli spazi della biblioteca consentirà anche in futuro una parziale riorganizzazione degli spazi anche con la compatazione di sessioni e con magari anche la creazione di nuove sessioni. Quindi è un'opportunità di crescita e di sviluppo di una biblioteca sicuramente unica sul piano nazionale ma anche internazionale perché è specializzata proprio sul fronte dell'arte ceramica.